Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera in Sicilia per questa campagna referendaria per il referendum costituzionale del 4 di dicembre. Cosa c'è realmente in ballo in questo referendum? La tenuta democratica oppure più l'idea politica di una spallata al governo? Io credo che prima di tutto ci sia in ballo e sul piatto un altro diritto dei cittadini, quello di votare il Senato. Perché con questa riforma si impedirà di fatto ai cittadini di votare i senatori. Già abbiamo perso il diritto di votare alle province, alle città metropolitane, alla Camera dei Deputati con un Italicum che ha i capilista bloccati e funziona come il vecchio Porcellum e adesso anche il Senato e la Repubblica non sarà elettivo. Poi è chiaro che con la vittoria del no, se dovesse vincere il no, noi chiederemo subito nuove elezioni. Come le chiediamo anche adesso, ma è chiaro che lì ci sarà un partito di governo molto debole che dovrà rimettere il mandato nelle mani degli elettori. Perché le ricordo che questo è il terzo governo che nasce in Parlamento con la definizione di scopo tecnico, che dovrebbe rilanciare l'economia, che doveva fare le riforme. E se vince il no, con quel no si boccia questa teoria dei governi creati con i tweet come quello di Matteo Renzi, che sostanzialmente però la situazione in Italia non l'hanno migliorata. Una spallata che però aprirebbe poi uno scenario diverso, cioè nel senso si andrebbe a votare con l'Italicum se si andrà a votare e soprattutto questo fronte che si è creato per il no è assolutamente disomogeneo, molto disomogeneo. Quello è il Presidente della Repubblica che lo decide, nel senso che è lui a decidere quando e come sciogliere le camere. È chiaro che il Presidente della Repubblica immagino si premurerà, se dovesse vincere il no, di sistemare la legge elettorale, perché ce ne sarebbe una alla Camera e una al Senato. È anche vero che anche se dovesse vincere il sì, si parla di modificare la legge elettorale. Noi siamo disponibili a modificare la legge elettorale. Abbiamo due importanti premure, una che i cittadini possano esprimere la preferenza quando vanno a votare e due che abbiano la possibilità di avere una legge elettorale costituzionale e non incostituzionale, che significa che i premi di maggioranza abnormi che sono sempre stati bocciati non possono essere accettati. Lei lo diceva all'inizio, questa nuova legge costituzionale toglie il diritto di eleggere i senatori, ma diciamo che questo diritto si è già perso prima con il Porcellum? Che è stato dichiarato in Costituzionale. Siccome è stato dichiarato in Costituzionale, adesso fanno una riforma costituzionale per creare effetti peggiori del Porcellum. Almeno prima al Senato andavamo a barrare il simbolo e non si poteva esprimere la preferenza. Adesso sostanzialmente sarà un affare dei partiti. I consiglieri regionali, tra di loro, i sindaci, si voteranno i futuri senatori. Queste sono le intenzioni. Non sarebbe meglio lavorare di più sulla legge elettorale per cambiare questo aspetto? Sicuramente, ma se si impedisce di votare il Senato, non possiamo fare una legge elettorale per un Senato che non si può votare più. E per quanto riguarda i tagli dei costi alla politica? Qui l'arcano è stato svelato perché noi avevamo un Presidente del Consiglio che diceva che si sarebbero risparmiati un miliardo di euro, poi 500 milioni di euro. Abbiamo fatto un'istanza alla ragioneria dello Stato per chiedere quali saranno i risparmi e i risparmi saranno poco più di 50 milioni. Ora faccio presente che si risparmieranno forse 50 milioni con una riforma costituzionale che il solo referendum costa 300 milioni, più tutto il lavoro in Parlamento. Ricordo ai cittadini che un'ora alla Camera di lavoro costa 100 mila euro. Che cosa voglio dire? Non che non si debbano fare le leggi, ma noi abbiamo proposto martedì in aula una legge che dimezzava lo stipendio dei parlamentari, le indennità dei parlamentari, facendo risparmiare 90 milioni di euro con tre ore di lavoro alla Camera e tre ore di lavoro al Senato, non due anni di lavoro e un referendum. Si dice che non avevate il relatore però. No, il relatore non c'era perché in Commissione i partiti tradizionali si sono rifiutati di dare il cosiddetto mandato al relatore. Hanno mandato in aula la proposta di legge solo perché noi avevamo diritto a discuterla come opposizioni e poi l'hanno rinviata in Commissione. Ma è chiaro che rinviata in Commissione significa che mi tengo tutto il malloppo, niente di più. Questa nuova fase di Renzi come la giudica adesso all'attacco dell'Europa, sposta il dibattito sui tagli della politica, sui costi della politica? Diciamo erano anche un po' vostri cavalli di battaglia. Renzi dall'inizio prova ad utilizzare i nostri temi e lo fa principalmente in campagna elettorale. Quando è in campagna elettorale attacca l'Europa, quando esce la campagna elettorale si riallinea a quelle che sono le governance e i trattati vergognosi europei. Di fatto questa nuova fase di cui lei parla che io non vedo è una fase in cui Renzi, a me sembra che abbia l'autorizzazione da Merkel e Hollande a sparare contro l'Europa per provare a far vincere il sì. Ma di fatti ne vediamo pochi, non sono stati messi in discussione i trattati con la Tunisia e col Marocco che danneggiano l'economia agricola siciliana, non è stato messo in discussione il fiscal compact, non è stato messo in discussione nulla dal punto di vista formale. Vedo solo un Presidente del Consiglio che riempie le pagine dei giornali italiani con attacchi all'Europa, perché fa moda, perché deve convincere quelli del sì. Ogni campagna elettorale è stato così, però questo giochetto si è rotto, gli ha funzionato alle europee, ma dopo le europee ha cominciato a perdere, perché i cittadini non lo reputano più credibile. Uno che in campagna elettorale dice una cosa e il giorno dopo non la fa, è uno che non ha credibilità. Però hanno causato anche voi più o meno di questo, cioè nel senso che il Movimento 5 Stelle spara contro l'Europa, poi Luigi Di Maio va in Europa ad accreditarsi di fronte a quelli che si definiscono i poteri fori. Guardi, come forza di opposizione potevamo prendere la moda di Brexit e cavalcarla. Quando c'è stata Brexit potevamo dire usciamo dall'Unione Europea e facciamo un referendum come hanno fatto altri. Siamo stati molto coerenti, abbiamo sempre detto che questa Unione Europea non ci piace, ma vogliamo cambiarla, non vogliamo abbandonarla. Noi non abbiamo ancora avuto l'opportunità di sederci come governo italiano ad un tavolo europeo con gli altri capi di governo e cominciare a ragionare di un'Europa che sia più comunità e meno unione monetaria. Ma quando l'avremo dimostreremo che le nostre non sono chiacchiere a differenza di quelli di Matteo Renzi. Questo lo dice però Luigi Di Maio perché c'è una parte del Movimento che però dice usciamo dall'Europa, punto e basta. Nel Movimento si dicono tante cose, ma io le dico qual è la linea politica ufficiale. Quindi lei ritiene di rappresentare la linea politica ufficiale? No, io ritengo che nel Movimento 5 Stelle non si è mai discusso di uscire dall'Unione Europea, questo è il punto. Poi il giorno in cui si discuterà, tutti insieme, se si dovesse discutere prenderemo una decisione, ma la decisione per ora è restiamo nell'Unione Europea, altrimenti non ci saremo candidati al Parlamento Europeo. Come non ci candidavamo alle province perché li ritenevamo degli enti inutili. Sente Sicilia vi state preparando a diventare forza di governo, probabilmente ci riuscirete. Sarà un vero banco di prova, insieme credo alla città di Roma, per il Movimento 5 Stelle. A me non piace giudicare le esperienze di governo del Movimento come banchi di prova del Movimento. Sono delle grandi occasioni per cambiare quelle città. Converrà però che si dice che magari voi siete bravi a fare l'opposizione, ma non a governare. Certo, ma questo infatti non vedo l'ora di dimostrarlo quando andremo al governo del Paese. Il governo degli enti locali in questo momento ha dimostrato che tutti i comuni che abbiamo governato hanno ridotto di oltre il 50% il loro debito pubblico, hanno messo mano a strumenti di assistenza di sostegno al reddito come il reddito di cittadinanza comunale a Livorno. Ho tante esperienze, Ragusa è una delle città che fa più investimenti in tutta la Sicilia ed è un modello di come in tre anni e mezzo si può cambiare una città, la si può rilanciare. Però a me sta a cuore governare Roma, governare Torino, governare la Sicilia per cambiare Roma, per cambiare Torino, per cambiare la Sicilia. Non come trampolino di lancio, perché nel caso specifico di Roma, per esempio, tutti i sindaci degli ultimi 15 anni hanno utilizzato Roma per provare a candidarsi alla presenza del Consiglio dei Ministri e quindi abbandonavano Roma perché avevano altre velleità politiche. Noi abbiamo bisogno invece di amministratori che si dedichino tutti i cinque anni di mandato al loro lavoro. Poi se faremo bene i cittadini si sosserranno, se faremo male ci manderanno a casa come tutti gli altri. Su Roma però si è iniziato maluccio. No, è Roma, è la città più complicata da governare d'Europa e ci saranno difficoltà ancora, io mi aspetto, ma lo facciamo con tutta l'onestà del caso, nel senso non abbiamo preso in giro i cittadini con i primi 100 giorni, non c'è nulla da fare in 100 giorni in Roma, c'è da fare invece in mesi e mesi di lavoro in cui si tagliano gli sprechi, i privilegi, quello che non serve e si mettono su risorse importanti, su servizi importanti. I primi 11 milioni di euro nei primi tre mesi tagliati dalla spending review, quindi tagliati da quello che non serviva, li abbiamo investiti nei servizi agli studenti disabili delle scuole. Dovrebbe essere una cosa normale, ma quel comune ha 13 miliardi di euro di debiti. È chiaro che ci sia qualche defezione dall'aggiunta, l'abbiamo rimpiazzata e si riparte. Voi siete in una regione che ha avuto 55 cambi di assessore nel giro di tre anni e mezzo. Lei ha visto anche in che condizioni è la Sicilia, soprattutto per i trasporti in queste due giornate siciliane. Sì, ho guidato da Palermo fino a qui sull'autostrada e so quale sia la sicilia. E quindi se lei dice che Roma è un banco di prova, credo che la Sicilia lo sia ancora di più. Il dramma è anche che molto spesso i cittadini ci affidano comuni o in questo caso regioni, poi decideranno i cittadini siciliani se affidarcelo oppure no, quando veramente hanno toccato il fondo. Noi ci prendiamo la responsabilità di rimetterli in piedi e i cittadini sanno che sono delle grandi sfide, perché anche qui c'è da rimettere a posto una regione non in buone condizioni. Quindi imparerete a dire sì quando ci sarà da dire sì per lavorare? Sì, ma io credo che di sì ne siano stati detti anche troppi in questa regione, se ci pensate. È stato detto sì a tutti quelli che bussavano alle porte della regione e così si sono creati i buchi di bilancio, perché si avevano risorse limitate e si dicevano sì illimitati a tutti. Parlavo di voi però, di come se ne erano come forza. Il vero sballo, secondo me, come diceva una famosa pubblicità, è dire no quando si governa, cioè è dire no a quelli che provano ad approfittare delle casse pubbliche pur sapendo che le casse pubbliche non sono in condizione di affrontare quella spesa. Mi permette una piccola provocazione, è più facile dire no alle Olimpiadi piuttosto che sì e farle bene? Cioè dimostrare di saperle fare? È più semplice, secondo me, dire sì alle Olimpiadi, perché ci saremo risparmiati tutto l'attacco mediatico che abbiamo avuto. Noi abbiamo detto no alle Olimpiadi e abbiamo salvato il Comune dal default. E di questo ci ringrazieranno i Romani un giorno. Tutte le città del mondo si stanno interrogando sulla sostenibilità delle Olimpiadi. Ci sono città che vogliono fare debiti, ma sanno tutti che quel sistema sfora e non funziona. Noi non siamo andati lì per esporre le casse pubbliche ad ulteriori debiti, siamo andati lì per razionalizzare la spesa pubblica. E per questo diremo sì a investimenti oculati, in trasporti, in pulizia urbana, dobbiamo ripartire da lì. Non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi essenziali. Se vogliamo cominciare a portare Roma nelle Olimpiadi o a portare Roma in mille grandi opere, possiamo farlo, ma otterremo il risultato di tutti quelli che hanno già governato negli ultimi vent'anni. L'Italia sta vivendo il dramma del terremoto. Oggi Renzi ha chiamato tutti i partiti a convergere, almeno nel fronteggiare questa emergenza. Voi cosa rispondete? Che noi siamo sempre stati disponibili a collaborare, però l'ultima volta che ha chiamato i partiti e le forze politiche a collaborare, poi ha fatto di testa sua. Noi vogliamo che ci sia una partecipazione a tutti i provvedimenti che verranno presi nei prossimi mesi. Partecipazione che non deve essere solo delle forze politiche, ma soprattutto della cittadinanza. Poi queste sono delle ore concitate. Sto leggendo, mi sono tenuto in contatto con l'unità di crisi, che sta cambiando la strategia. La protezione civile sta valutando non più di aiutare le persone sul posto, ma di spostarle. Ci sono, mi pare, 20.000 sfollati. Quindi fare delle new town, sostanzialmente? Vedremo, vedremo. Oppure portarli sulla costa, adesso si sta cercando di capire, anche perché il cratere si allarga. L'ultima considerazione, ritorniamo ancora al referendum. Per chi ancora fosse indeciso, qual è la parolina magica per indurre a votare sì o no, come nel vostro caso? Io lo ripeto ancora una volta, a me quello che fa arrabbiare di più è che negli ultimi due anni ci hanno tolto il diritto a voto su un sacco di enti dove noi potevamo votare. Adesso il Senato della Repubblica non sarà più elettivo grazie a questa riforma costituzionale. Ci sarebbero altri 47 cattivi motivi per non votare questa riforma. Ma se mi tolgono il diritto al voto, se alle prossime elezioni politiche, anche se voto un partito alla Camera, ce n'è un altro al Senato insediato grazie alla volontà dei partiti e non alla mia volontà, questa è una buona ragione per votare no. Grazie. Grazie a voi.